Le parole che mi dici tu sono molto più gravi. Cosa faccio? Perché ti chiamo ciccione quando tutti ti chiamano po'. Crotalo, tacci, crotalo, 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 tacci. Al forzo. Grazie pubblico, grazie. Crotalo, 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 crotalo. Ma il pubblico sta applaudendo noi. Abbiamo lo scardi 2.0. Calmi un attimo ragazzi, io me ne vado. Cioè il pubblico sta applaudendo questo spettacolo orredo. Allora, scusa Antonella. Ecco. Antonella. Il pubblico applaude questo? No. Questa non è violenza? No. Io dico ciccione, questa non è violenza? Antonella, non è violenza. No, 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 no. A questo rientra. Non è violenza, non è. Scusa Alfonso, però qua c'è stato rigenerando. Ma tu cosa ridi? E tu cosa ridi? Ma la violenza sulle donne è un'altra cosa. Ma cosa ridete? Ma guarda, non è violenza. Ragazzi, sono tra voi, tra pochi minuti ritorno da voi. Grazie, chiudetemi l'audio perché sono in candidatura. Ma tu sei un mostro. No, sono più intelligente di te perché tu sei furba e stolta. Io sono intelligente. Non sono usciti i confessionali che fai su di me, su di lei. Hai avuto il culo che non sono usciti. Se escono i confessionali che hai fatto in giro, te aprono in due a te, bella brasiliana. Lei sentà, lasciami un paio. Grazie. 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 Grazie.